ciao sono marco sono il direttore tecnico qui in con studio milan e responsabile delle aree tecniche e programmazione e it dello studio mi occupo personalmente di studiare e trovare e proporre strumenti tecnologici che utilizziamo nell'azienda come motori grafici l'area engine per esempio o altri strumenti di produzione degli asset per esempio come udini di un po tutta l'infrastruttura tecnologica dell'azienda in generale il reparto si occupa di sviluppare l'applicazione mettere tutto insieme costruire il prodotto finale quindi da quel punto di vista i programmatori hanno una certa rilevanza ciascuno ha dei ruoli diversi e quindi ci dividiamo i compiti tuttavia esistono già delle aree predefinite con i responsabili di area e queste aree si diversificano nelle varie parti che compongono l'applicazione tipo la fisica il gameplay ovviamente le animazioni il network l'intelligenza artificiale la nostra filosofia centrale è quella di condividere le esperienze i punti di vista discuterne non lavorare separati per poi avere un risultato che è sostanzialmente una giusta posizione incoerente delle varie parti noi cerchiamo di puntare molto alla collaborazione tra le parti ci vediamo in riunione per mettere sul piatto quello che abbiamo fatto per esempio la parte fisica con la parte del design della fisica o del design del comportamento della moto e del pilota soprattutto le intelligenze artificiali quelli vanno programmati per rispettare quello che i designer vogliono che facciano e quindi c'è un rapporto di implementazione feedback test insieme e poi torniamo a sistemare quello che non è andato le opportunità che offre il nostro reparto sono quelle di crescere in un ambiente professionale qui abbiamo un buon mix secondo me di seniority e persone appena uscite dall'università o junior con limitata esperienza cerchiamo appunto di garantire a tutti quanti una crescita professionale adeguata e alle persone che volessero unirsi al team sappiate che sarete seguiti oltre minuti entrate in un team con persone capaci entrate in un team con persone capaci ... ... ... ... ... ... ... Grazie.